L'ippodromo delle Capannelle a Roma per la quarta edizione del Pizza Days, un'edizione rinnovata con laboratori e percorsi di degustazione con pizza classica romana napoletana. L'ultimo giorno è prevista un'iniziativa contro lo spreco alimentare, io non spreco, dono. Il cibo non utilizzato verrà infatti donato alle parrocchie del territorio, alle associazioni di volontariato. Mercoledì pomeriggio la Lazio sarà...